Buongiorno Daedo, allora prima di addentrarci nella news di oggi dobbiamo trattare un argomento fondamentale che ha finalmente trovato un riscontro scientifico, ne hanno parlato molti siti di news e siccome mi ha sempre affascinato e interessato me lo sono letto con piacere e ve lo riporto. Sto parlando della sindrome dell'Havana, uno dei grandi misteri dell'umanità, quasi da Adam Kadmon però la cosa interessante è che non si tratta di cose tipo alieni o mostri delle profondità dei mari ma di un fenomeno riportato da diplomatici americani e canadesi, quindi insomma non una banda di complottisti. Se non sapete cos'è vi sto per svoltare la giornata, praticamente nel 2016 alcuni membri della CIA e diplomatici americani di stanza a Cuba riportarono strani mal di testa, vertigini, nausea e perdite dell'udito e negli anni si tratta di circa 26 persone che hanno riportato questa cosa dicendo di aver udito una specie di fischio o di ronzio prima della comparsa di questi sintomi una cosa proveniente da una direzione specifica e cosa che è stata poi confermata dalle ambasciate dagli Stati Uniti e dal Canada, in maniera proprio ufficiale. Quindi ovviamente questa cosa ha portato delle indagini per scoprire la causa di questi malesseri e si puntava moltissimo sulla pista delle armi psichiche, no? Sai quei film di fantascienza dove spari un raggio luminoso verso una persona e gli fai venire tremendi mal di testa? Ecco, si era davvero ipotezzato per anni che fosse una roba del genere, un'arma dei comunisti cubani. Allora, a questo punto qual è l'aggiornamento di oggi? È che uno studio condotto dalla US Office of the Director of National Intelligence cioè capite a che livello è arrivato questo topic? Insomma, lo studio ha stabilito che la sindrome dell'Havana, molto probabilmente, non è causata da un'arma nemica a raggi microonde o laser che sono armi che esistono veramente, peraltro. Il problema è che lasciano dei segni che non sono stati riscontrati nelle vittime della sindrome dell'Havana. In particolare, lascerebbero delle ustioni sulla pelle perché il laser naturalmente funziona proprio scaldando la superficie dell'oggetto colpito e ha, tra l'altro, bisogno di una chiara linea di tiro, che non passa ai muri. E il raggio a microonde comunque funziona scaldando l'oggetto dalla parte più esterna che assorbe le onde a quella più interna. Quindi un raggio di questo tipo, per fare danni al cervello, lascerebbe un'evidente ustione sulla pelle. Quindi niente, dobbiamo scartare la teoria dell'attacco con armi a raggi. Anche se lo studio dice molto probabilmente, non sicuramente. Quindi teniamoci questo grado di incertezza e continuiamo, per favore, a studiare questo tema perché trovo che sia fondamentale. E poi comunque c'è stato un altro studio un paio di anni fa che aveva detto che i sintomi erano riconducibili agli effetti di un'onda di energia a frequenze radio. Quindi è non ci rassegniamo. Bene, ho parlato tantissimo della sindrome dell'Havana, che forse è un tema che interessa solo me, ma o d'altra parte. Questo è il mio podcast, parlo di quello che mi pare. Anzi, guarda, creerò una domanda su Spotify, così potete suggerire qual è, secondo voi, la causa della sindrome dell'Havana. Ho visto che qualcuno ha notato che nell'episodio di ieri su Spotify ho aggiunto un sondaggio, ben due persone, bravi, sto sperimentando. Poi vedremo se sono cose simpatiche da usare per qualche motivo. Ma invece di cosa volevo parlare oggi di serio? Ormai ho perso completamente interesse a comunque altro argomento. Ah sì, ecco, i piani di meta per i prossimi visori AR e VR. No, mi interessa moltissimo. Pure questo, quindi, ne parlo molto volentieri e in maniera approfondita. Allora, meta. Meta, come sapete, anni fa si era comprata Oculus, la startup fondata da Palmer Lucky, che è un mezzo pazzo, poi è stato anche defenestrato. E il CTO era John Carmack, che invece se ne è andato per fondare la sua startup sull'intelligenza artificiale. Bene, negli ultimi anni, Meta ha investito sulla VR. Peraltro, con l'ultimo visore consumer, MetaQuest 2, dedicato ai videogiochi, ha venduto un botto. Quasi 20 milioni di unità. Cioè, per fare un confronto, PlayStation 5 ha venduto 32 milioni di unità. Quindi, un successo enorme se considerate la tipologia di prodotto. Bene, che succede? L'altro giorno hanno presentato ai dipendenti dei Meta Reality Labs la roadmap dei prossimi anni dei prodotti ARVR e l'hanno resa pubblica. Riguardo la VR, quest'anno è prevista l'uscita di MetaQuest 3, che sarà due volte più sottile, due volte più potente, e costerà un po' più di 400 dollari, che è l'attuale prezzo del Quest 2. E offrirà una buona esperienza di Mixed Reality, cioè, sfruttando le telecamere esterne e il pass-through, si potrà vedere il mondo esterno svolgendo l'esperienza di realtà aumentata costruita dagli sviluppatori. Vedremo se Meta riuscirà a convincere gli utenti a pagare più del prezzo di Quest 2 per il nuovo visore, che internamente ha il codename Stinson. Anche perché ne hanno venduto un botto lo scorso Natale, quindi chi l'ha appena preso probabilmente aspetterà un po' prima di cambiarlo. Ma c'è questo bel selling point della Mixed Reality che potrebbe convincere più di qualcuno a fare il salto. Sono previste 41 nuove app, compresi i videogiochi e la Mixed Reality, nel corso dell'anno, e poi nel 2024 il piano è di uscire con un nuovo prodotto, un visore di cui conosciamo solo il codename, che è Ventura. Questo sarà più limitato nelle performance hardware, ma più aggressivo in termini di prezzo, quindi l'idea è di avere un entry point economico per convincere più gente possibile a saltare sul carro della VR. C'è poi anche un probabile successore di MetaQuest Pro, che è il visore da più di 1000 dollari, uscito l'anno scorso e destinato al mercato professionale. Per questo si parla di molto più in là nel futuro, dopo Ventura, e di un prodotto il cui codename è La Giolla, che dovrebbe avere avatar fotorealistici. Peraltro, parlando di questa roadmap, Mark Rabkin, che è il VP della VR di Meta, ha detto che ci sono un sacco di nuovi utenti di Quest 2, soprattutto da Natale, ma che sono molto meno ingaggiati, non so come tradurre engaged, comunque meno entusiasti del prodotto, rispetto a chi, come me, l'aveva acquistato agli inizi, e quindi devono lavorare sulla retention. E devono naturalmente lavorare sul confronto con PSVR 2, il visore di Sony per PlayStation 5, uscito da poco e ricevuto molto bene sia delle riviste specializzate che dal mercato. E poi, molto probabilmente, la concorrenza si arricchirà dei prodotti di Apple, Google e Samsung, di cui si parla da un po' di tempo, e che potrebbero rovinare l'attuale dominio di Meta. Ma non è finita, perché la roadmap ha mostrato anche prodotti per la realtà aumentata, la AR, in particolare, occhiali e braccialetti per controllarli. Qui c'è una differenza chiave sul posizionamento di mercato, perché nei piani di Zuckerberg questi dispositivi differiscono dai visori VR, perché dovrebbero essere destinati a sostituire gli smartphone, quindi oggetti proprio di largo uso quotidiano, un qualcosa quindi destinato a ridefinire un paradigma. E qui Alex Himmel, che è il VP della divisione AR, ha presentato piani per i dispositivi fino al 2027. Il primo dovrebbe essere il successore degli smart glass creati con Luxottica nel 2021, i Ray-Ban Stories, è previsto per quest'autunno, mentre la terza generazione di questi occhiali è prevista per il 2025 e prevede enormi improvement, come un display che permetterà di leggere i messaggi di testo, fare lo scan dei QR code e tradurre i test in tempo reale. Questi dovrebbero essere accompagnati da un braccialetto che permette di controllarli con movimenti della mano, come se si muovessero le dita su uno schermo immaginario e si pensa addirittura a una virtual keyboard. Per il 2025 è previsto anche uno smartwatch che dovrebbe accompagnare questi occhiali. E poi si parla anche di veri occhiali per la realtà aumentata, codename Orion, già in lavorazione da 8 anni internamente e previsti per un lancio interno per i dipendenti nel 2024 e un lancio pubblico non prima del 2027. E questi erano i piani di meta per la VR, quindi insomma, come sappiamo, Zuckerberg sta scommettendo fortissimo su questa tecnologia. Finora ha perso un sacco di soldi e ha dovuto tagliare migliaia di posti di lavoro, ma se ha ragione lui, se la presa sul pubblico sarà forte, se riuscirà a scardinare il paradigma dello smartphone sostituendolo con gli occhiali e a sostituire almeno in parte le console da gaming con i visori VR, potrebbe essere in una posizione dominante per parecchi anni, quindi scommessa davvero ardua con una posta in gioco altissima e grossi dischi nel caso vada male. E noi saremo qui a seguire tutto. E grazie anche a voi se avete seguito questo episodio fino qui, scusate se mi sono preso i primi minuti per una curiosità personale, se volete che smetta scrivetevi pure una mail all'indirizzo finiscilaperdio.com e se invece vi va, noi ci risentiamo alla prossima. Ciao!